eccoci eccoci un saluto da luciano e da adri ciao ben ritrovati a tutti aspettiamo intanto che si connettano aspettiamo di ritrovare anche la voce dopo ieri sera intanto soprattutto il primo tempo è stato abbastanza impegnativo il primo tempo diciamo che alla voce l'abbiamo persa per tutti gli accidenti che abbiamo tirato ogni volta che sbagliavamo un gol nel secondo tempo invece diciamo la voce se n'è andata al primo gol di Dzeko e anche al secondo però devo dire il primo in particolare è stata una liberazione quindi si è tolti veramente una scimmia d'addosso che era anche su quello annullato che poi io quasi subito ho capito che l'aveva annullato perché vedevo quel gesticolare però vedi che alla fine non è stato per fuorigioco ma è stato per io ho visto ho detto ho fatto un falo pensavo addirittura a gamba tesa perché sai poi da lontano non è che l'abbiamo visto perfettamente invece era perché ha dato una spinta di fatto al difensore o comunque si era liberato nella sua marcatura in modo non corretto e lì l'arbitro non l'aveva visto gliel'ha segnalato evidentemente il quarto uomo o qualche guardaline che ha visto e gli ha detto in diretta guarda che c'è un fallo allora ha sospeso sì ma inesistente cioè nel senso non anche perché ha intanto Claudio giusto sì lui è Claudio Claudione ciao Claudio ben arrivato e no tra l'altro ha fatto il metodo dall'inglese non ha fischiato due rigori clamorosi che c'era quello sia sul primo tempo sull'autaro sia il secondo e poi ha fischiato una spintarella proprio inutile cioè che potevi anche lasciare correre sì ma lì era poi a due parti perché a noi ha fischiato due o tre volte degli starnuti praticamente più che dei falli loro invece certe volte ha tirato delle ranzate oltre quelle in aree anche fuori che invece poi alla fine non aveva molto senso quindi anche ema 91 ben trovato tu col col tuo microfono sì sì no no ma perché mi sto districando anche a scrivere quindi sono diciamo una mano impegnata è un'altra che tiene no vabbè ieri alla fine bene nel senso che il primo tempo era un pochino sulla falsariga no anche della champions dell'anno scorso cioè nel senso ripartivamo si creava tanto poi loro fastidiosissimi cioè perdevano tempo già il secondo minuto e abbiamo sprecato tanto più per stanchezza fisica perché sia barella che geco nel primo tempo insomma erano un po' cotti poi geco è salito perché comunque sempre è sempre sapiente e poi quando chiaramente vedi annullarti i due gol ma questo l'ha già detto anche geco dici no dai non è possibile ancora una volta e quindi diventa tutto più più complicato siamo stati bravi ad uscirne ciao cristian ciao cristian ben arrivato anche a te ma lo dice bene claudio cioè abbiamo avuto veramente c'è una mezza crisi di nervi perché due gol annullati il primo per un fuorigioco di un'unghia il secondo per un fallo veramente che fischiano solamente al calcetto dei bimbi di quattro anni probabilmente e poi va bene tantissime occasioni sbagliate da noi c'erano tutti gli ingredienti per incazzarsi perché c'erano la l'incapacità nostra di saper concretizzare le tantissime occasioni avute quella di barella dopo poco ma geco ne sbagliate due nel primo tempo clamorose e non è quindi colpa nostra un po' che due volte che abbiamo centrato la porta trubin ha fatto due miracoli e quindi anche lì la palla non entra loro veramente irritanti con questo possesso palla dal basso a perdere tempo come dicevi tu dal terzo punto del primo tempo veramente fastidiosi come un gatto attaccato ai maroni e quindi è stata veramente una la classe poi va bene tendo a dire il passo al tempo non segni non segni non segni hai già visto il film tre volte diceva beh siamo qua alle solite cioè veramente c'era la maledizione Shakhtar e fortunatamente quando abbiamo visto dalla nostra posizione si è visto perfettamente la palla respinta sul tiro di Darmian che arrivava a geco in corsa e che da lì veramente o si suicidava e tirava la palla in curva oppure la metteva in porta che era semi spalancata con uno spazio bello grande da come è arrivato sul pallone abbiamo capito che avrebbe segnato perché da lì o saltava anche fuori il ginocchio del difensore che la respingeva fortuitamente altrimenti non potevano andare dentro lì è stata veramente una liberazione esatto tra l'altro adri visto che no i tristoni sono spariti no perché adesso qua ne parliamo il risultato esatto a proposito di questo lo sai che lukaku si è disattivato da twitter perché prendeva gli insulti di da parte dei tifosi del celsi che lo amavano così tanto e ma lui ha detto che ti facessi da quando era piccolo che non vedeva l'ora di andare la giocare peccato che stia facendo più panchina che partite titolari nell'ultimo periodo perché il celsi e questo lo vede chiunque capisca di calcio gioca meglio senza lukaku perché comunque da meno punti di riferimento ed è più veloce magari il celsi ricordiamo che senza lukaku ha vinto una champions adesso intendo dire non è che adesso arriva lui per fargli vincere qualcosa il celsi ha già vinto senza lukaku giocando tante volte con un falso 9 e tante volte comunque facendo inserire a turno i centrocampisti giocando in velocità con ripartenze e con capacità di di andare sulla tre quarti mettere centrali le linee e dare la palla ai centrocampisti di inserimento quindi da questo punto di vista è una grandissima goduria vedere che lui che è andato via sostenendo quello che ha sostenuto con le sue interviste adesso è là e tante volte si fa una bella sana panchina poi continuerà a segnare ovviamente per ovvi motivi però intanto in questo momento ci prendiamo qualche piccola rivincita geco lo ha già fatto dimenticare perché non è lukaku come giocatore non è forte come finalizzatore per certi aspetti come lui nel senso che non si costruisce le occasioni da solo però quando gli capita la palla ieri ne ha sbagliate due poi gli altri le ha messe dentro sì leggiamo questo messaggio che quando praticamente inserito sensi ha pensato che non avremmo più sofferto si tiene conto rispetto alla partita con napoli si tiene conto che comunque ieri loro non avevano una punta di ruolo e comunque io dopo aver preso il tuo a zero erano un pochino cioè giochicchiavano insomma non è che abbiano spinto più di tanto tranne su quel tiro che poi ha preso il palo comunque sì sicuramente mentalmente sono tutti migliorati perché sennò ieri non vincevi con lo sheriff non vincevi e comunque non facevi un filotto di tre partite di fila che poi sono quelle che ci hanno portato a a passare il turno lo dicevamo era necessario vincere tutte tre e alla fine è stato così sì il celsi ci ha dato un sacco di soldi per un loro sfizio fondamentalmente ma noi l'abbiamo sempre detto esatto anche perché avrebbero avuto più bisogno di uno come i cardi no c'è uno che non dà troppo fastidio alla manovra e che però comunque fa gol infatti per loro verne era perfetto perché non la butta dentro mai praticamente però comunque fa giocare anche bene gli altri luca come invece lì è proprio un peso si vede cioè se il celsi avesse le van doschi sarebbe probabilmente la squadra più forte d'europa o comunque quella più destinata a vincere con facilità anche se poi ad esempio chi ama il calcio ieri sera guardare siti e pari san germain ci porta due riflessioni da una parte che con le figurine non sempre vinci quello che potrebbe succedere a pari san germain quest'anno perché intendo dire alla fine guardavi la formazione ieri in campo non so quanti milioni c'erano in campo tra cartellini e ingaggi è una cosa addirittura cioè inverosimile quello che vedi quando leggi la squadra e anche quelli che hanno in panchina però poi devi diventare una squadra per assurdo in questo momento l'inter è più squadra del pari san germain cioè loro hanno delle individualità che noi non abbiamo è inutile girarci intorno perché di cosa stiamo parlando cioè quando davanti puoi schiacciare bappé neymar messi e magari ti entra di maria di cosa stiamo parlando no cioè però loro non sono una squadra ieri il city si è dimostrato molto più squadra di loro ha meritato la vittoria perché l'ho partita l'ho vista quasi tutta più qualche highlight delle altre mentre girava un po surreal per vedere se continuava la nostra tranquillità però ecco loro non sono squadra in zaghi in questi mesi pur tra qualche errore di cambi magari a livello tattico all'inizio un po troppo aggressivi un po troppo alti ha messo una squadra che gioca a calcio ma soprattutto che è una squadra e questo lo vedi perché in campo gli aiuti che vengono dati dai compagni a chi si trova in difficoltà coi raddoppi cioè sono la testimonianza che la squadra gioca con un fine che viene comunque in qualche modo condiviso essere squadra è questo tante volte no non è essere 11 fantastici solisti perché con gli 11 fantastici solisti io non ricordo nessuno vincere qualcosa questo non succede nessun sport di squadra perché comunque ci sono quelle dinamiche che comunque vengono quando c'è gruppo il city in questo oltre che giocare un bel calcio ecco quello che ha messo in vista con la partita magari un argomento che riusciremo a trattare anche prossimamente ma lancio lo spunto noi siamo un'ottima squadra per arrivare a quei livelli a parte alcune individualità ci mancano due cose fondamentalmente uno la velocità con cui loro fanno quelle giocate cioè l'inter tante volte fa delle buone giocate ma non a quella velocità e l'altra cosa che ci manca è la qualità nei piedi di tutti i giocatori cioè noi intendo dire quando adesso noi capiterà che agli ottavi incontreremo magari una di queste perché poi se abbiamo fortuna magari ti becchi che so fortuna per modo di dire magari ti becchi l'ajax di turno che è un forse forse per certi aspetti usciamo ecco dopo ne parliamo secondo me l'ajax è peggio anche del celsi certo perché loro corno poi ti fanno sono bravi a manovrare il panore però per fare l'esempio in questo momento diciamo che tu quelli che non vuoi incontrare sono il city ovviamente il liverpool no perché se oggi o il bayern perché se trovi becchi uno di queste tre qua quelle tre esatto la vita 99 su 100 ti prendi una rullata possibile che ci sta cioè la juve è andata a giocare un po leggeretta col celsi ha preso quattro arancia se ne è tornata a casa con le riserve del celsi esatto quindi la dimostrazione che a noi per arrivare a quel livello manca ancora tanto te la puoi giocare trovare gari con squadre oggi come l'ajax lo sporting mi viene in mente no quella che arriverà a seconda tra porto e atletico se il milan non fa il miracolo di passare il turno ecco te la puoi giocare in partite secche o nel doppio confronto però è chiaro che rispetto alle prime hai un ritardo e il ritardo è la qualità clamorosa che hanno alcuni di loro quasi tutti e la velocità con cui fanno le cose ieri guardavi city pari san germain era un ritmo che a san siro ieri non si è visto ieri a san siro si giocava al 50 per cento dalla velocità con cui giocano loro chi ha visto un quarto d'ora del liverpool ieri sera col porto cioè capisci che quando è davanti mané e sala noi abbiamo lautaro che ottimo e sala è un altro giocatore cioè la differenza a quei livelli e la vedi lì no sì secondo me ieri però non è neanche paradossalmente la partita giusta cioè perché con napoli c'era già un'altra velocità chiaramente con una squadra che ok fa il possesso poi dopo si chiude in 112 dietro alla linea della palla a meno che non hai tecnica sopraffina ma anche per le squadre come il city poi difficile certo poi non abbiamo quei giocatori lì tecnicamente è difficile far andare veloce la palla senza senza qualità cioè non potranno mai arrivare capito ovviamente a quel livello di tecnica di precisione al di là poi di inzaghi che li fa giocare in un determinato modo cioè vediamo un po' di domande poi volevo fare una considerazione sull'Ajax allora su Perisic Claudio ci aveva chiesto ad oggi è più no che sì il rinnovo si incontreranno diciamo da come da prassi però poi sta il giocatore cioè l'Inter la proposta gliela farà ma al momento il giocatore orientato a guardarsi intorno non chi abbia offerte concrete al momento però comunque quella è la sua volontà a differenza di di Brozo che comunque diciamo che c'è molto ottimismo l'ha detto ho confermato anche Marotta sudodo dello Shakhtar per carità è una bella partita bravo però poi è da vedere il classico brasiliano dello Shakhtar che nello Shakhtar rende e poi dopo bisogna vedere no che cosa va a fare in altre squadre rapido tecnico ci potrebbe stare in questa inter ecco magari anche come anzi senza magari come quinto in cui anche più libertà perché no bravo in fase offensiva scusami bravo fase offensiva in fase difensiva in copertura ha fatto più fatica quindi è il classico giocatore cioè noi capiamo perché lo Shakhtar poi magari la vince il campionato cioè loro hanno una capacità e una qualità nel gioco di un certo tipo poi però quando trovano le difese in Ucraina è un po' diversa la difesa dell'Inter quando l'Inter si è messa dietro dopo aver fatto il 2 a 0 di fatto abbassata non lasciando spazi loro sono riusciti a creare un'occasione da gol solo perché Andanovic non ha coperto il palo no e hanno trovato nomi più lì altrimenti loro non si sono avvicinati alla porta comunque chiaro che in Ucraina quella squadra può far faville e ne fa 3 a 4 a partita perché hanno la qualità e puoi permetterti anche di di attaccare tanto perché poi in difesa viene sollecitato poco ieri però quando poi ti trovi il Perez della situazione Dodò è stato molto bravo sulla destra a spingere poi però le due occasioni in cui Perez ci ha deciso di andare via è andato via due volte l'Inter ha fatto due gol quindi va ricordato anche questo certo e Claudio solo sei prime sei prime puoi abbonarti gratuitamente puoi contattarci via mail se così ti mandiamo tutte le procedura se non hai prime c'è la possibilità comunque di abbonarsi al canale cliccando sulla andando sulla nostra schermata del canale cliccando abbonati 20 per cento di di sconto e ci si può abbonare come se fosse a pagamento normalmente comunque ci sono diverse modalità sull'avversario dei degli ottavi allora posto che magari andiamo e vinciamo a Madrid ma iniziamo ok allora contattaci via mail Claudio così ti spieghiamo passo a passo e parlando degli avversari degli ottavi ipotizzando di arrivare secondi poi magari andiamo a Madrid e vinciamo ma cioè tutto può succedere dubito perché già l'arbitraggio di ieri ha fatto capire no ecco tante cose ecco sarà difficile però da evitare assolutamente quelle tre che ha detto Adri poi c'è la fascia intermedia dove per intermedia io reputo il Chelsea come tipo di squadra attenzione non come qualità come tipo di squadra meno difficoltosa da affrontare tatticamente rispetto all'Ajax l'Ajax quest'anno ragazzi per me può fare come fece con già può arrivare tranquillamente in semifinale quarti se ha l'annata giusta come ce l'ebbe poi ti ricordi quando fu eliminato dal Tottenham eccetera sì assolutamente a un minuto della fine era già in finale ha un attaccante fisico e veloce che è Aller e a Anthony gente sugli esterni rapidissimi centrocampo tosto Alisandro Martinez centrale che è veramente forte Onana non penso lo facciano giocare nelle partite che conta poi cioè ieri hanno giocato perché erano praticamente passati come primi e chi rischia invece il Dortmund che adesso è fuori adesso come adesso no no il Dortmund è fuori proprio no sì sì fuori non può più è eliminato il Dortmund eh sì perché non può più ah perché c'è gli scontri diretti dici esatto sì sì a memoria è fuori il Dortmund credo quindi c'è lo Sporting dovrebbe essere qualificato te come la pensi Adri sugli affversari ma quelli che dicevamo prima così adesso allora tendo a dire sì aspettiamo di capire come arriviamo ti dico alla fine abbiamo il vantaggio di poter andarla a giocare senza pesi e quindi poi magari facciamo la partita ricordo che anche l'Inter dell'anno scorso a Madrid ha perso 3 a 2 rischiando di vincere perché sul 2 a 2 si è riusciti a prendere un a fare un tiro che è uscito penso di una spanna dall'incrocio dei pali con il loro portiere fermo e se fosse entrata quella al settantottesimo l'avremmo anche vinta quest'anno l'andata Milano al primo tempo li abbiamo rullati e se veniva 2 a 0 3 a 0 non c'era nulla da dire 5 occasioni a una sono state primo tempo poi abbiamo avuto la sventura di prendere sto gol maledetto nell'ultima ripartenza che hanno fatto al novantesimo altrimenti comunque avremo quantomeno pareggiato e oggi affronteremmo eh quell'incontro con due risultati su tre invece che con uno su uno su tre però al di là di quello poi vediamo eh sulla carta eh alcune sono proibitive e altre te la puoi giocare è anche vero che comunque oggi siamo al venticinque di novembre e quello che succederà a fine febbraio è tutta un'altra storia perché da qui a tre mesi fanno in tempo a cambiare la forma dei giocatori infortuni di una squadra nell'altra eh cioè il mercato di generale che qualcuno farà qualcuno non farà non lo so però intendo dire come ti presenti oggi come ti presenti tra tre mesi cambiano tantissimo le cose bisogna vedere in quel momento l'Inter come sarà in campionato chi sarà la squadra che affronti se in quel momento il campionato lo sta dominando come magari sarà il Bayern piuttosto che magari invece il Chelsea che invece starà lottando probabilmente insieme a Liverpool o al City eccetera per portare a casa lo scudetto sono tante le variabili e quindi direi che i ragionamenti andranno fatti a metà febbraio noi potremmo fare due ragionamenti quando faranno il sorteggio se non ricordo male a dicembre tutto la metà dicembre qualcosa del settore la settimana dopo la fine dell'immacolata Sant'Ambrogio esatto una cosa di questo tipo a metà dicembre ci saranno i sorteggi gli faremo le nostre riflessioni poi però quello che conterà onestamente a fine febbraio tra l'altro la cosa buona diciamo è che entrano 20 milioni nelle casse dell'Inter e specifico nelle casse dell'Inter e non nelle casse di qualcun altro perché già c'è gente che è spuntata dopo il post Instagram di Zhang dicendo ah ecco si fa sentire solo si prende i 20 milioni se ne intasca intanto diciamo che se guardate la sua pagina Instagram sono tutti gli ultimi 8 a memoria vado a memoria gli ultimi 8 post sono tutti dell'Inter e poi è un continuo cioè nella sua pagina Instagram c'è praticamente solo Inter negli ultimi tre anni da quando è presidente oltretutto oggi su Twitter ha avuto uno scambio con una persona e mi ha dato questo dato dal 2018 quando è diventato ufficialmente presidente Steven Zhang l'Inter ha fatto 251 punti e la Juve 247 quindi anche questo Adri è un segno del progresso dei passi in avanti che sono stati fatti luciano tu hai ricordato questo dato che è interessante perché comunque fa capire che poi uno può anche vincere i campionati poi però bisogna vedere anche come li vinci no perché poi il merito sono anche i punti che tu porti a casa e le performance che riesci a portare avanti questo permette di ricordarci e di ricollegarci a quello che era anche un po' il titolo di questa di questo appuntamento no cioè e tutti quelli che quest'estate hanno fracassato le palle no a giugno ai primi di luglio e quando è stato ceduto a Kimi e quando è andato via Lukaku io l'ho sentito tutti i colori no tutti si professano interisti e quest'anno non ci qualifichiamo per la Champions e quest'anno non entreremo in Europa League e sti cinesi hanno rotto il cazzo e non è possibile che l'Inter faccia una campagna acquisti di questo tipo e adesso che come c'era il campionato non arriviamo neanche tra le prime sei e in Champions usciremo sicuramente i gironi esattamente come abbiamo fatto gli anni scorsi perché se non siamo passati con Hakimi e Lukaku vogliamo passare con Dunfris e Dzeko no perché sai Dunfris era considerato una pippa Dzeko vecchio bollito che non segnerà neanche un gol Cialanoglu abbiamo preso uno a zero dove voce andiamo con uno preso a zero intanto Dzeko e Cialanoglu li abbiamo presi uno a zero e l'altro a zero costerà eventualmente un milione un milione e mezzo no se introdesse raggiungere un certo tipo di obiettivi parliamo di Dzeko e intanto Dzeko e Cialanoglu sono stati decisivi per essere oggi terzi in campionato a quattro punti dalle prime sapendo che in campionato abbiamo buttato nel cesso noi e per colpa anche arbitrale dei punti negli scontri diretti altrimenti eravamo primi in campionato e in Champions dove tutti quelli anche quelli che prendevano 12 13 milioni di euro netti all'anno hanno fallito siamo arrivati comunque ai gironi a distanza di nove anni dall'ultima apparizione agli ottavi di finale e quindi tutti quelli che hanno rotto il cazzo durante l'estate farebbero bene a sciacquarsi la bocca dal primo all'ultimo dovrebbero ricordarsi che si tifa Inter sempre comunque prima di essere sempre negativi perché odiano una proprietà di un certo tipo cominciassero a ragionare perché oggi l'Inter ha due individualità in meno forti dello scorso anno perché Hakimi e Lukaku non sono facili da sostituire ma come Rosa è più completa e più forte dello scorso anno sì Eriksen lo tenevo fuori perché diciamo non è stata una scelta della società o una vendita della società però sembrava che senza Lukaku non ci fosse più vita Dzeko ha fatto gli stessi gol di Lukaku probabilmente a questo punto della stagione l'anno scorso e quindi altro numero a proposito Dzeko più Correa a questo punto dell'anno hanno 14 gol Lukaku a questo punto dell'anno non mi ricordo se 11 o 9 comunque questo fa capire che poi con un mercato intelligente no i gol li sostituisci cioè riesci a comunque sostituire hai preso Correa che comunque uno che oltre che essere trequartista fa anche da seconda punta e quindi i gol li sa anche fare oltre che dare assist hai preso Cialanoglu che comunque ai rigori si è dimostrato preciso anche quei tiri da fuori e occasioni le ha create e quindi di cosa stiamo parlando cioè uno deve saper valutare al di là delle motività del momento attribuendo colpe obbligatorie di qui e di là deve capire chi arriva dei nuovi come funzionerà la squadra che Inzaghi sta provando comunque a dare un gioco diverso da quello che c'era con Conte non è un caso che l'Inter abbia vinto comunque adesso tre partite consecutive giocando a calcio ricordiamo Sheriff e Shakhtar non sono il Paris Saint Germain e non è il Manchester City o il Liverpool però intanto l'Inter tre partite di fila le ha vinte in un momento in cui dopo due giornate sembrava fossimo praticamente fuori perché avevamo un punto noi e sei lo Shakhtar cioè scusami lo Shakhtar lo Sheriff e sembrava impossibile far tre vittorie consecutive ci siamo riusciti bisogna fare un applauso ai ragazzi Inzaghi perché hanno raggiunto comunque un obiettivo importante nove anni che lo aspettavamo hanno portato a casa 20 milioni di euro hanno fatto fare altri due punti nel ranking più i quattro che prenderemo di bonus con gli ottavi siamo già 11 arriveremo a 15 in questa stagione abbiamo ancora una partita di gelone da giocare poi avremo comunque gli ottavi da disputare e questa è una stagione che a livello europeo può già dirsi comunque positiva indipendentemente da come finirà chiaro poi se avvia la sfortuna che incontri il Liverpool tiene da quattro Danfield Road ci sta e prenderemo atto che ci manca ancora qualcosa per poter essere competitivi in Europa esattamente come quando l'Inter di Mourinho andò nel 2009 ero là a Manchester contro lo United perdemmo due a zero una partita sfigatissima in cui meritavamo di far di più però in quella partita nacque l'Inter nel post partita in cui dice questa squadra ha bisogno di quattro cinque giocatori di un certo tipo per poter essere competitiva e l'anno dopo abbia vinto oltre i più. Eh ma così tra l'altro a differenza di allora adesso lo sappiamo anche c'è da subito che comunque non siamo a livello di Liverpool City, Bayern eccetera quindi ripeto poi ci confrontiamo e poi vediamo dunque leggiamo un po' di domande Riccardo dice anzi Carmelo dice per Barella si tirare il fiato col Venezia penso che giochi Vidal e Riccardo ci fa due domande anzi una considerazione una domanda dice se vinciamo con Real evitiamo tante squadre Bayern Chelsea si l'avevano detto prima se dovessimo arrivare o primi voglio il Barça squadra lo sfascio se passa il Barça perché da vedere e l'Inter con Suning è diventata superiore poi ci fa un'altra considerazione dice alla faccia di quelli che stanno descrivendo che sta descrivendo Adri Geko Lukaku migliore vendita acquisto del secolo Marotta Abgenio si comunque ha sostenuto quello che abbiamo detto in sostanza anche perché ripeto c'è la Noglu adesso si è adattato e è un altro acquisto che è passato molto in sordina cioè è un giocatore che sta facendo la differenza sia in termini difensivi che in termini offensivi ieri ha fatto 3-4 contrasti a centrocampo qualche parecchiera in corso oltre comunque ad aver dato qualità nella manovra allora Cialanoglu sta diventando un giocatore per intenderci allora faccio un paragone è diverso perché sono tecnicamente diversi però mi viene in mente il Depol che è andato all'Atletico dall'Udinese cioè un giocatore che nasce non avendo tantissimi minuti nelle gambe 60-70 minuti di qualità in attacco che però nel corso degli anni ha imparato anche a coprire in difesa e a farsi comunque il mazzo come centrocampista anche difensivo sono diversi sia tecnicamente fisicamente tutto però in qualche modo hanno avuto un percorso simile cioè nascono sostanzialmente per offendere e poi diventano comunque grazie al sacrificio e al fatto di sapere che se vuoi diventare giocatore della grande squadra deve essere un giocatore completo giocatori capaci di fare anche la fase difensiva Cialanoglu aveva già dimostrato in un'altra partita specialmente con l'Atalanta in cui aveva giocato meglio in fase difensiva che non in fase offensiva nel famoso 2-2 di San Siro e ieri aveva dimostrato ancora nel primo tempo prima che Perisic esplodesse e facesse poi la differenza sulla fascia pur avendo già giocato molto bene nel primo tempo e avendo fatto anche due chiusure da Cineteca Cialanoglu era stato il migliore in campo nel primo tempo perché aveva abbinato la capacità di sempre far ripartire l'azione spesso fatta con molta lucidità e molta intelligenza nel derby ha fatto una partita al di là dei gol splendida comunque anche lì ha fatto 4-5 chiusure difensive con contrasto anche deciso e rincorsa dall'avversario che normalmente vedi fare più facilmente a Barella o a Brozovic non sicuramente a uno che può giocare mezzala offensiva trequartista ecco per intenderci e questo è un pregio sapersi sacrificare in questo senso quando dico che c'è gruppo e che c'è squadra lo vedi perché in una squadra come il Paris Saint Germain oggi Cialanoglu non tornerebbe a centro campo a fare la chiusura difensiva e il contrasto no dice ah tanto sta cosa qua la fa Danilo Perera questa cosa qua la fa Paredes io rimango su a fare il figlio del quartiere perché mi metto a scuola qui che sale con Neymar la differenza è questa che una squadra invece gioca con anche giocatori di qualità che tornano e tirano le legnate per poter diciamo fermare magari gli avversari al centro campo e questa è una cosa che a me sta piacendo molto che con Inzaghi stiamo vedendo assolutamente tra l'altro nel frattempo giunge la notizia che Sanchez potrà essere addirittura convocabile col Venezia si sta provando in queste in queste ore sarebbe un ottimo rientro anche se penso che al di là del fatto che Lautaro ha terminato la partita con i Crampi solo Crampi per fortuna sarà Lautaro Correa magari mezz'ora la fa fare a Dzeko oppure mette Satriano per esserci seconda punta insomma qualcosa la farà e cambierà anche perché comunque le due fasce saranno rivoluzionate rispetto a ieri per forza di cose perché Peresici e Darmiano hanno fatto due partite molto dispendiose sia psicologicamente che mentalmente che fisicamente e quindi necessitano di riposo comunque per chi paragonano poi questa squadra rispetto a quella dell'anno scorso c'è un modo differente di giocare a calcio cioè anche Capello ha detto più volte che non c'entra niente cioè il gioco ha più alternative c'è più possibilità di arrivare al tiro è una squadra che magari subisce di più però d'altra parte se non ti prendi rischi poi non attacchi e non riesci anche a trovare soluzioni quindi quante volte abbiamo trovato bastoni nell'area avversaria però se quello è il modo poi per rimersi pericolosi è un rischio calcolato e tra l'altro ieri è importante anche il clean sheet rispetto alle rispetto alle altre partite no fondamentale comunque trovare continuità difensiva sì che l'abbiamo sfiorato anche in trasferta con lo Sheriff stando poi prendere con un po' quel gol da Pirla al novantesimo però al di là di quello quello che dici tu è molto corretto e tu non puoi essere così offensivo senza rischiare qualcosa o giochi in tredici e allora a quel punto hai una chance di poter avere due che coprono in più oppure è normale che tu ti debba scoprire ma in Europa quello devi fare ma anche le partite come quelle col Napoli le vinci se in qualche modo hai coraggio perché altrimenti speri di fare quello che finisce 0 a 0 e poi magari con la botta di culo l'occasione creata un po' così di rifa di raffa porti a casa il risultato ma lì puoi farlo se davanti hai dei cecchini cioè se tu hai davanti Lewandowski quello puoi farlo dici io costruisco due occasioni da gol in tutta la partita mi metto dietro e non ne prendo ne creo due e tanto su una lui mi segna il gol noi noi abbiamo davanti Lewandowski con tutto rispetto abbiamo davanti ottimi giocatori perché lo sono sia Lautaro che Dzeko ma non sono Lewandowski che infatti non a caso probabilmente è destinato a vincere il pallone d'oro che non gli hanno dato l'anno scorso perché hanno deciso di non darlo per la faccenda del covid perché l'anno scorso Lewandowski ha vinto tutto quello che si poteva vincere e onestamente l'avrebbe meritato già l'anno scorso ecco loro o è un giocatore così o ha il Benzema davanti cioè i due che secondo me oggi per carriera e forza ancora oggi sono i due attaccanti più forti in assoluto al di là del talento di Mbappé però Mbappé deve ancora vincere quello che hanno vinto gli altri per ora nelle partite decisive Mbappé è mancato se ci pensi anche con la Francia quindi gli altri invece qualcosina hanno portato a casa allora a quel livello devi per forza rischiare qualcosa a me piace il fatto che ci si prenda qualche rischio abbiamo ridotto il numero di rischi rispetto all'inizio dell'anno dobbiamo ancora ripeto migliorare un po' in tecnica barra velocità congiunta perché chiaramente per poter andare avanti eventualmente in Europa per poter fare una rimonta in campionato che non dipenda solo dalle sventure degli altri devi cambiare proprio ritmo cioè devi in certe partite essere diciamo più aggressivo l'ultima cosa veloce sul discorso di Venezia sarebbe stato importante il contrario cioè che ci fosse prima la partita con lo Spezia e poi quella col Venezia perché quella col Venezia al di là di tutto sarà tosta il Venezia è in un momento positivo corrono tantissimo sono veloci avranno avuto tutta la settimana per preparare la partita a differenza nostra che ieri sera abbiamo speso ancora sul campo per l'ennesima volta umido e scivoloso tantissime energie fisiche e nervose se avessimo avuto prima la partita con lo Spezia la rotazione di tanta parte della squadra sarebbe stata più insomma meno rischiosa col Venezia devi fare rotazioni senza rischiare troppo perché i tre punti in laguna sono fondamentali non puoi permettere di sì anche se loro vengono da una prestazione non proprio buona col Bologna dove meritano di prendere 4-5 gol poi vabbè hanno vinto sull'unico mezz'ora in pallo quindi però comunque si sono d'accordo che queste partite dopo la Champions nascondono sempre insidie soprattutto giocando di sabato intanto una considerazione del nostro amico ha detto stavo vedendo una partita col commento in inglese mi ricordo nella prima parte dove il commentatore ha detto che dobbiamo rivedere quest'azione perché l'Inter sta attaccando con 9 giocatori esatto è quello che poi alla fine abbiamo detto l'importante poi vabbè a Venezia è portare a casa i tre punti anche perché è un turno sulla carta noi favorevole a Dream commentiamo quest'ultima cosa e poi dopo terminiamo la qualificazione continuativa alla Champions League fino al 2023 2024 è arrivare agli ottavi di finale per lo stesso periodo di tempo è il prospetto informativo dell'aumento di capitale della Juventus gli obiettivi consegnati alla parte sportiva per riequilibrare i conti sarebbero questi è una richiesta cioè è una quella della Juve è quella della Juve questa no quindi praticamente facevano il piano su quello che era il minimo indispensabile da fare per poter garantire una certa continuità economica senza dover fare magari il quarto aumento di capitale e la Juve su questo deve stare molto attenta quest'anno ha la fortuna che quelle che sono in questo momento al quarto posto di fatto si stanno un po' mangiando punti a vicenda in qualche modo le potrebbero permettere di rientrare nel quarto posto alla luce anche delle vittorie alcune veramente fortunose che ha fatto odiare i recuperi che ha fatto mi viene in mente la Juve ha fatto una vittoria con la Roma in una partita che meritava di perdere o al massimo di pareggiare con l'intra doveva perdere è riuscita ad adrizzarla nel derby col Torino ha fatto un gol a quattro punti da fine dopo aver sofferto le pene dell'inferno con lo Spezia e la Sampdoria ha vinto di un gol facendosi il segno della croce quindi diciamo di partite ne portate a casa alcune veramente sculando altrimenti avrebbe altro che i 21 punti e se oggi invece di 21 ne avesse i 16 17 18 rischierebbe di rimanere davvero fuori dalle prime quattro della Champions e quindi per l'anno prossimo avere grandissimi problemi certo la Juve vista oggi in campionato e in Champions col Chelsea non credo che abbia vita lunga neanche a livello europeo perché se noi riprendiamo quattro da Liverpool ne ne prende quattro anche lei se gioca come sta giocando oggi cioè è più facile che ne prenda quattro lei esatto che non noi poi per l'amor di Dio ripeto a febbraio magari ci saranno situazioni diverse qualche giornale dice che la Juve a gennaio prenderà sicuramente Vlaovic a 50 milioni di euro sono gli stessi che probabilmente hanno detto che ieri sera dopo la qualificazione conquistata dall'Inter dopo l'eventuale vittoria anche del Real Madrid l'Inter sarebbe stata acquisita da PIF e ci sarebbe stata la comunicazione ufficiale che deve essere il 19 poi il 20 poi il 21 poi passa il weekend il 22 no forse il 25 intanto oggi è il 25 sera e ancora PIF non si è vista ieri noi truppe cammellate a San Siro pur essendoci stati non ne abbiamo incontrate e quindi aspettiamo ancora fiduciosi che questo accada perché era dato per imminente sicuro certo fatto siamo arrivati al 25 e le famose date del 19 in poi sono state tutte disattese da prima l'ultima purtroppo l'analfabetismo funzionale fa sì che molta gente creda realmente a queste cose queste date questi dettagli e quindi va bene andiamo andiamo avanti così Carmelo dice l'ho incontrato oggi a Palermo PIF stavo girando un film e vedi che comunque qualche PIF in Italia c'è non era Milano va bene ragazzi ci vediamo poi domani sull'altro canale per la diretta la live consuetta settimanale 21 e 30 sì esatto assolutamente quindi stiamo parlando ovviamente del canale rosso perché poi questa la trasporremo anche sul su questo canale quindi dai va benissimo fateci sapere al solito cosa ne pensate scriveteci se avete voglia di avere ulteriori informazioni su come supportarci su come fare a partecipare in live e vi rimandiamo ovviamente ai prossimi appuntamenti un saluto da Luciano e da Adria un abbraccio a tutti alla prossima grazie ancora grazie a tutti